Tassinari Moreno arresta il palleggio Vuole Marx che attacca Bonaccini Che lo stoppa Gran difesa di Bonaccini Recupero per Musso Ancora buona tradizione difensiva Bonaccini da tre punti In tradizione Sotto per Molinaro Poi perde palla Bravissima Imola a recuperare Questo pallone Trentin Schiaccia Più fallo Più fallo Che assist Di Vico Buscaroli attacca Magagnoli Valferro non lo inchioda Con la stoppatissima Mladenov Lasaghi prova a rimettere ordine Non si riesce perché perde palla Attenzione perché si invola Mladenov In contropiede Max te lo dico Giocata da Elias Si arresta Cambia il lato Per il tiro pesante Invece che se lo prende Per il terrore Ripanto di Buscaroli Ma un indemoniato Mladenov Lo cancella E gli dice no Not in my house Qua non si passa Qua non si passa Grazie a tutti.